La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con il nostro appuntamento mattutino con la rassegna stampa, oggi giovedì 19 dicembre vediamo quali sono i principali titoli, argomenti trattati dai quotidiani in edicola questa mattina partiamo dal mattino nazionale, dalla prima pagina del mattino nazionale si parla del taglio ai fondi per le università in particolare anche per la ricerca vediamo il titolo, tagli agli atenei, addio talenti questo è il titolo, manovra, intervista al presidente dei rettori Manfredi così crescerà la fuga all'estero, patto per la salute stanziati 3,5 miliardi, in corsia medici settantenni e specializzandi l'allarme taglia alle università sono a rischio contratti e borse di studio avverte Gaetano Manfredi gli articoli correlati il riparto dei 249 milioni per gli asili nido la beffa del sud che dice sì ai fondi al nord e poi le scelte dei partiti meno senatori e deputati ok al referendum per lo stop questi i principali titoli i principali argomenti su cui torneremo nelle pagine successive vediamo quali sono le altre notizie dagli esteri impeachment l'ira di Trump una farse il voto della Camera nella notte sulle accuse al presidente per le regionali De Luca pesca tra Forza Italia e i delusi di De Magistris patto con il sindaco azzurro di Pomigliano due consiglieri di Napoli pronti al salto regionali De Luca pesca in Forza Italia ma anche tra i delusi di De Ma il governatore stringe un patto con il sindaco di Pomigliano Lello Russo Forzissa ma anche due consiglieri comunali di Napoli Mundo e Simeone legati a De Magistris sarebbero pronti a correre con il PD di De Luca e poi il caso Capri l'elicottero arriva in ritardo muore una donna in basso la fusione via al matrimonio FCA PSA e il quarto colosso dell'auto in Italia a rischio le produzioni di motore è arrivato l'ok e di mattina l'annuncio della fusione dell'accordo di fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot per le notizie sotto la testata nei box il libro dall'Iraq a Lago Patria le città perdute del mondo per lo sport invece il calcio i rinforzi azzurri Napoli regista cerca si torreira resta in pole ma prende quota anche Berge e poi si avvicina anche il periodo per il festival di Sanremo quest'anno Amadeus direttore artistico vediamo il Sanremo stile Amadeus linea verde anche con i big questa è la prima pagina del mattino nazionale per le altre prime pagine andiamo a Salerno in apertura si parla degli arresti dei cinque arresti di ieri da parte dei carabinieri del comando provinciale cinque persone arrestate due custodia cautelare in carcere tre invece agli arresti domiciliari per il tentativo di gestire di gestione totale dei servizi di sicurezza nei locali notturni vediamo il titolo l'inchiesta butta fuori pronti a uccidere security nei locali violenze pestaggi un omicidio progettato per sbaragliare la concorrenza cinque arresti c'è un agente di polizia penitenziaria indagati tre imprenditori del by night il personaggio lo show della moric soffiato dal rivale lira di castagna capo dei picchiatori ancora per le altre notizie di cronaca la movida alcol e musica ecco di vieti per le vigili e bus al lumicino mentre per quanto riguarda la scuola rivoluzione comprensivi il comune unisce tutti gli istituti svolta nella geografia scolastica di salerno tutte le scuole diventano comprensivi il comune con delibera di giunta allarga infatti la platea delle istituzioni proponendo alla regione una radicale rivoluzione dell'assetto formativo i cambiamenti sono contenuti nella proposta di piano di dimensionamento scolastico per il 2020 centro pagina il commercio al femminile donne imprenditrici dalla bottega al digitale poi ancora un'altra notizia di cronaca ieri incidente sul lavoro alle fonderie pisano operaio travolto alle fonderie operato è grave dipendente storico può perdere una gamba i sindacati troppi disastri subito verifiche e poi l'avvertenza i talcementi c'è la svolta rinnovo cig e formazione le notizie di spalla interviste il prefetto telecamere in rete così più sicurezza l'andamento dei reati in provincia di specchia il trend in diminuzione così come il ministro dell'interno ha di recente pubblicato e quando in alcune parti del territorio si è verificato un incremento nella commissione di alcune tipologie di reati sono stati disposti in seno al comitato mirati e specifici servizi a tutela della comunità l'emergenza costiera amalfitana spezzata in due più minibus e vie del mare in basso le notizie di sport salernitana ventura fida a Zizek le chiavi della regia russo la protesta ultra meglio dell'indifferenza e nei box in alto vediamo sotto il titolo di testata memorie della bellezza rum il genio dell'arte con il sostegno di menna e ancora aragonese fare l'attrice significa vivere tante vite andiamo avanti con le prime pagine andiamo sulle cronache vediamo anche qui si parte con l'inchiesta e gli arresti da parte dei carabinieri di Salerno la guerra dei buttafuori Nino 40 doveva morire questo il titolo blitz tra Salerno e Battipaglia cinque arresti indagati tre imprenditori non hanno collaborato Walter Castagna ordinò a Vincenzo Cortiglia di uccidere il rivale al killer mancò il coraggio sotto il titolo di testata Polichetti rinchiuso in carcere oggi Servalli e Galdi testi d'accusa il comune dedicava a rischio scioglimento per infiltrazioni della camorra vediamo le altre notizie oggi l'autopsia al professor Crisci affidata al dottor Sfinisci e della Sapienza di Roma a Scafati resta sequestrata la villetta di Aliberti abusi edilizi restituito solo il vano cucina e ancora le altre notizie alle fonderie Pisano grave incidente Vittorio Cappellano travolto da un mezzo e in gravi condizioni e ancora per l'aeroporto Costa da Amalfire se note le ditte che partecipano al bando per la pista Rainone a Sopigliatutto i titoli per le cronache sulla città vediamo anche qui si parla dell'inchiesta sui buttafuori nel Salernitano vediamo il titolo per la città la guerra dei buttafuori tra Movida e Clan i bodyguard tra Salerno e la Piana del Sele si contendevano i servizi di security nei locali a suon di pestaggi 5 arresti 2 gruppi contrapposti l'ex pentito Walter Castagna era pronto ad uccidere il rivale Nino 40 questa è in sintesi la storia andiamo avanti la frana che ha spezzato in due la costiera Amalfitana vediamo in costiera via mare d'inverno questa è la soluzione ipotizzata per far fronte all'emergenza viabilità soprattutto in questo periodo di festività natalizie e poi il giallo di Pertoso un fantasma sulla strada sbandano e rischiano la vita le notizie di spalla Cava De Tirrenica morre e voti in carcere Polichetti a Eboli Pip la stangata bis le imprese in fuga ancora la sentenza l'Europa blinda il latte di bufala per le notizie di fondo la tragedia morte di Crisci ci sono tre indagati oggi l'autopsia e poi il dramma travolto dal muletto le fonderie Pisano grave un operaio ricoverato d'urgenza ricoverato e operato d'urgenza al Ruggi d'Aragona a Salerno la resa del comune e i vandali del metro i vici restano chiusi in basso il verso Empoli salernitana i cori per Muzzi e l'ira di Delio l'intreccio di 25 anni fa nel torneo delle capitali alla Recchia ogni estate ha i suoi tormentoni i suoi sogni sotto l'ombrellone nell'agosto del 94 la suggestione della Salernitana che giusto un paio di mesi prima si era lasciata alle spalle l'inferno della Serie C si chiamava Roberto Muzzi si proprio il prossimo avversario de Granata nella gara di sabato al Castellani l'allenatore di un Empoli in crisi queste le prime pagine torniamo ora sul mattino nazionale andiamo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo già visto anche dalle prime pagine partendo proprio dal taglio agli Atenei la decisione del governo in legge di bilancio era stata chiesta di approvare un miliardo di fondi per favorire la ricerca e per aiutare gli Atenei nella formazione degli studenti una richiesta che non è stata approvata alla Camera al Senato era arrivato l'ok invece alla Camera è stata poi bocciata la proposta e vediamo l'intervista a Gaetano Manfredi presidente della conferenza dei rettori delle università italiane che critica la decisione del governo vediamo tagli agli Atenei a rischio contratti e borse di studio queste le sue parole che delusione eppure l'università è strumento decisivo per il futuro del paese addio ad altre generazioni di talenti attratte da stati che sostengono la ricerca all'ultima assemblea dell'anno della conferenza dei rettori delle università italiane inevitabilmente si parlerà dei mancati stanziamenti della legge di bilancio dei fondi per le università un miliardo di euro la richiesta del ministro Lorenzo Fioramonti che però è stata poi bocciata alla Camera frenata su no tax area e negato il diritto allo studio ma riconosco l'impegno del ministro queste le parole che troverete nell'intervista rilasciata dal presidente dei rettori andiamo avanti Asilinido lo abbiamo già visto anche dalla prima pagina più fondi per il nord con il benestare del sud questo almeno quanto riferisce il mattino vediamo Asilinido fondi al nord con il consenso del sud De Caro al mezzogiorno 40 milioni ma gli altri 209 vanno a Chini di Liaggia continua lo scontro sull'autonomia boccia resiste nessun passo indietro Ascani i soldi serviranno anche a ridurre le rette falso per quello che per quelle sono già stanziati gli altri 520 milioni e con questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torneremo tra pochissimo restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo a sfogliare le pagine interne dei quotidiani salernitani partiamo dal mattino notizia in primo piano la proposta del comune di Salerno di rendere comprensivi tutti gli istituti scolastici del territorio vediamo il titolo rivoluzione didattica diventano comprensivi tutti i plessi comunali infanzi elementari e medie la giunta vara gli accorpamenti ora serve il via libera della regione ma c'è già l'ok informale della Fortini svolta nella geografia scolastica di Salerno tutte le scuole diventano istituti comprensivi erano attesi tre nuovi comprensivi ma il comune con una delibera di giunta allarga la platea delle istituzioni proponendo alla regione una radicale rivoluzione dell'assetto formativo i cambiamenti sono contenuti nella proposta di piano di dimensionamento scolastico per il prossimo anno 2020-2021 centro pagina vediamo le altre notizie pugno duro dei presidi stop occupazione al d'approce dai dirigenti allertano le forze dell'ordine tuteliamo i ragazzi al liceo tasso presidio e assemblea degli studenti il processo morto in moto i genitori parte civile contro l'amico di taglio basso messa di natale al campus bellandi benedice il rettore sento davvero questo luogo come casa mia accolgo l'invito a vivere l'università come spazio del mio ministero è un'omelia carica di significati quella di Monsignore Andrea Bellandi in occasione della liturgia della Santa Messa di Natale in Ateneo andiamo avanti sempre sul mattino sulla pagina di cronaca parliamo del caso dell'operaio travolto e ferito gravemente alle fonderie Pisano vediamo l'incidente l'inchiesta travolto alle fonderie grave operaio investito da un muletto nel piazzale dell'azienda di Fratte ricoverato in rianimazione rischia di perdere una gamba sentito dai carabinieri l'autista del mezzo industriale Pisano al Ruggi in visita al ferito Vittorio è uno di noi rischia di perdere una gamba l'operaio rimasto coinvolto nell'incidente di ieri mattina alle fonderie Pisano tutto è accaduto intorno alle nove e mezza quando Vittorio Castiello dipendente storico dell'azienda è stato investito da un muletto in uscita dal capannone mentre si trovava nel piazzale esterno all'opificio e poi la denuncia morti bianche il record salernitano i sindacati sicurezza subito verifiche in basso un'altra cucina forni musica e brindisi con i reclusi l'evento organizzato in contemporanea in dodici carceri cento detenuti a tavola con Alessandro Greco ed altri artisti ancora le notizie sul mattino questa volta però andiamo sulle pagine della provincia nella Piana del Sele Cilento Vallo di Diano e Picentini in apertura andiamo a Battipaglia MGM dopo l'incendio bonifica ferma al palo e accuse al comune rappresentante dell'azienda che trattava pneumatici usati ordinanza scritta male dubbi sui terreni per spegnere il rogo il comune faccia chiarezza sulle quantità di terreno depositato sull'azienda che bruciava si sintetizza così la situazione di stallo che negli ultimi mesi si è creata fra amministrazione e vertici della MGM l'azienda che trattava pneumatici usurati finita in fiamme lo scorso 12 settembre a Eboli non si attengono agli ordini della direzione silurati conduttori radiofonici indipendenti Ponte Cagnano Faiano impianto di compostaggio non passa il referendum bocciata con 4 voti favorevoli e il ecco 11 contrari la mozione presentata dall'opposizione per indire un referendum popolare sulla realizzazione di un impianto di compostaggio sul territorio di spalla di spalla battipaglia pugni e calci al minorenne per rubargli lo smartphone lo picchiavano per rubargli lo smartphone poi fuggono un vero e proprio agguato quello subito da un minorenne lunedì scorso mentre camminava in una traversa di via domodossola in basso Perito Cilentana malato terminale tenta il suicidio malato terminale costretto sulla sedia a rotelle tenta di togliersi la vita sulla Cilentana gettandosi sotto sotto l'auto in corsa è accaduto ieri mattina il 67enne originario di Perito malato di cancro in preda ad un raptus aveva deciso di suicidarsi e a Sapri droga nella cappa della cucina dai domiciliari passa al carcere queste alcune delle notizie che troverete sul quotidiano il mattino ci spostiamo ora sulle cronache in primo piano parliamo dell'inchiesta e degli arresti di ieri mattina per il controllo della security nei locali notturni gli cinque arresti di cui due in carcere vediamo la guerra dei buttafuori terrorizzava i gestori locali così racconti racconta così titola le cronache il blitz cinque arresti indagati tre imprenditori che avevano detto di non conoscere i loro aguzzini c'è anche Walter Castagna vecchia conoscenza fu anche collaboratore di giustizia e poi fece marcia indietro vediamo i particolari l'invasione a battipaglia dei salernitani imprenditore fu minacciato uno degli indagati aveva anche organizzato una spedizione punitiva contro suo figlio che a suo dire necessitava di una lezione quanto viene fuori da una intercettazione captale dagli dalle intercettazioni captate dagli investigatori l'agente di polizia penitenziaria Massimiliano D'Ambrosio avrebbe assistito al pestaggio commissionato da Salvatore Lobosco ai danni di suo figlio in basso Castagno ordinò l'omicidio di Nino 40 ma Cortiglia non ebbe il coraggio di sparare lo stesso Cortiglia continuò a organizzare estorsioni ai gestori dei locali questa è la cronaca i fatti degli arresti di ieri andiamo avanti vediamo quali sono le altre notizie ci spostiamo sulle pagine della provincia di Salerno andiamo a Battipaglia all'ospedale Santa Maria della Speranza mancano ostetriche e ginecologhe questa è l'allarme il prossimo 31 dicembre scadranno i contratti per sette dipendenti all'ospedale Santa Maria della Speranza grave carenza di personale la denuncia arriva dal dirigente della FIALS provinciale Carlo Loppolo unitamente al segretario provinciale generale Salvatore Di Candi e delegati dell'RSU FIALS Alfonso Napoletano Carimando Saverio Mario Marmo e Salvatore Di Candi e sindacalisti hanno scritto al direttore generale dell'ASL Mario Iervolino per denunciare la carenza di personale andiamo avanti Atena Lucana blitz pacifico degli animalisti al macello ecco con chi banchetterete a Natale e a Polla tagliano alberi ed abbattono torre faro della ferrovia tragedia sfiorata abbattuta anche la storica torre faro nei pressi della stazione ferroviaria un traliccio di circa 25 metri è stato abbattuto dal crollo di un grosso albero tagliato da una ditta del posto tragedia sfiorata a Polla dove la potatura di grossi alberi e l'abbattimento di altri ha veramente rischiato di causare non solo danni a opere circostanti ma un vero è proprio danno ad impedirlo la sorte e il caso e sempre a Polla vandali danneggiano il villaggio natalizio la struttura è stata colpita con pietre e calci chiudiamo questa pagina ancora le province andiamo ancora le notizie dalla provincia andiamo a Sapri situazione industriale nel Cilento lunedì incontro con Boccia appuntamento con il presidente degli industriali lunedì alla casa del Buon Pastore soddisfatto il sindaco con i nostri territori hanno bisogno di visibilità e a Eboli liquidazione consorzio imprenditori aria PIP abbattute le spese di gestione per le imprese ancora alla tabaccheria del centro commerciale Maximal 20 14 mila euro il superenalotto fa ancora felici i salernitani e con questa pagina chiudiamo la nostra rassegna stampa vi ricordo il nostro appuntamento con il Tg alle 13.45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito